Marco partirei dal gol anche perché è arrivato in quella porta dove invece con il Ponte d'Era insomma ti era andata dentro quella palla sbagliata insomma un gol pesante che ha sbloccato il risultato ha dato il via a questa vittoria che è molto importante anche per avvicinare la salvezza Sì, hai detto bene, è un gol importante soprattutto per la squadra, io ne sono molto felice perché non segnavo da tanto tempo come dicevamo prima però ha sbloccato la partita ed è fondamentale perché in queste partite quando i punti contano così tanto e la tensione inizia a salire sbloccare con palle inattive è fondamentale, poi come hai detto tu quest'anno ho sbagliato due volte la porta, è capitato un po' di sfortuna di averne fatti due nella porta mia e questa volta invece ho azzeccato quella giusta Di Arezzo in casa sta costruendo mattone dopo mattone la salvezza, terza vittoria consecutiva, prende pochissimi golli anche oggi l'ha preso ma su palle inattiva L'ultima segnale di sua azione è stata la Lucchese addirittura all'inizio dicembre, insomma cosa è cambiato per sfruttare così bene il fattore K? Sicuramente è aumentata la consapevolezza nella squadra, sappiamo come tutte le squadre che soprattutto per salvarsi perché l'obiettivo principale era quello e rimane quello bisogna fare ancora quei punti necessari per arrivare al punteggio target e quindi la salvezza si costruisce in casa e noi siamo stati capaci e soprattutto bravi e consapevoli di costruire questa nostra salvezza e i tre punti sul campo di casa perché lo conosciamo bene, conosciamo le ampiezze e poi soprattutto le altre squadre venendo qua a giocare contro di noi che proponiamo un calcio offensivo e propositivo si trovano in difficoltà molto spesso quindi dobbiamo continuare così e sfruttare queste partite in casa che ci rimangono per fare più punti possibili Come spiegare a differenza delle altre volte la sofferenza finale perché gli avversari hanno trovato il gol del 2-1 e insomma gli ultimi minuti sono stati ansiogeni come non mai? Sì, oggi più che altre volte si può giustificare anche un po' come il fatto che fosse la terza partita in una settimana quindi un po' di stanchezza, loro sono buttati avanti con tutti gli effettivi anche con la forza della disperazione la forza di non aver niente da perdere quindi ci hanno messo in difficoltà poi sfruttano una delle loro armi migliori che il gioco aereo quindi sono riusciti a trovare questo gol ma sono stati bravi a mantenere il risultato e portare a casa la vittoria Un'ultima cosa anche a livello personale, insomma che giudizio dai di questa tua stagione fino a questo momento ti aspettavi di giocare un po' di più, di trovare un turnover così largo da parte del mister che insomma non risparmia praticamente nessuno, ecco insomma dal tuo punto di vista come sono andate le cose finora? Con il gol di oggi diciamo che si mette un bel segno positivo ma non che prima non lo fosse sicuramente mi aspettavo di giocare un po' di più ma le decisioni del mister le accettiamo tutti perché il turnover è fondamentale soprattutto quando si giocano partite così ravvicinate gli effettivi della rosa sono tutti forti e quindi non conta chi gioca diciamo che l'obiettivo principale dell'Arezzo è quello di raggiungere come dicevo prima la salvezza e nel minor tempo si raggiunge meglio è quindi indipendentemente dai giocatori sicuramente l'obiettivo di tutti quanti è quello di giocare il più possibile di essere protagonisti il più possibile però quando si viene chiamato e si è a disposizione si cerca di dare il massimo e tutti lo stanno facendo